Amo la scuola perché è sinonimo di apertura alla realtà. Andare a scuola significa aprire la mente e il cuore alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti, delle sue dimensioni. E noi non abbiamo diritto a avere paura della realtà. Un altro motivo è che la scuola è un luogo di incontro e noi oggi abbiamo bisogno di questa cultura dell'incontro per incontrarci, per conoscerci, per amarci, per camminare insieme. Questo fa pensare a un proverbio africano tanto bello per educare un figlio ci vuole un villaggio, per educare un ragazzo ci vuole tanta gente, famiglia, scuola, insegnanti, tutti, tutti, personale assistente, professori, tutti. E poi amo la scuola perché ci educa al vero, al bene e al bello. Vanno insieme tutti e tre. L'educazione non può essere neutra, o è positiva o è negativa, o arricchisce o impoverisce, o fa crescere la persona o la deprime, persino può corromperla.